Ciao a tutti, sono al Teatro Portaportese, sta per iniziare oggi il mio primo corso di edizione e recitazione qua al Teatro Portaportese nella Sala Pasolini, una bellissima sala che ospiterà tantissimi allievi e non vedo l'ora di incontrarli, di conoscerli, stanno per arrivare, vi ricordo che il corso si terrà ogni martedì dalle 18.30 alle 20.30, siete tutti invitati se volete migliorare la vostra edizione, imparare quindi ad avere un tipo di comunicazione efficace e soprattutto se volete diventare dei bravi attori, perché ricordatevi che il bravo attore è quello che non recita, l'attore è quello bravo, va alla ricerca della verità e noi porteremo un po' di Hollywood qui al Teatro Portaportese perché insegnerò anche le tecniche della Talk Studio e in particolar modo il metodo Lee Strasberg, quindi seguitemi nei prossimi video perché scoprirete chi sono i miei allievi e soprattutto conoscerete un po' di più sul mondo della dizione e della recitazione cinematografica, vi aspetto, ciao!